Era in quel tempo d'India, Signore, re a venire, che era gran pagano, e in odio aveva nostro Salvatore, Cristo Gesù, e ciasc'è un cristiano. Ma come via quel verace Dio, dopo alcun tempo la sua cara sposa ingravitò, che ne aveva i grandi sbio, un fanciolo maschio. Il re che era di lui tanto gioioso, mandò dopo tretti del nascimento, per cinque sali e disse, io vuoi sapere che Giosaffa Ventura debba avere. Riperserà tutti i nostri preti degli idoli, e a voi, nostro Signore, e contro te sarà senza segreti, e far farete ben queste cose, che rinchiudiate senza pensier nullo, in un palazzo bello, che li darete in guardia, a un di cui vi fidarrete. E quel palazzo così fatto sia, senza finestra che miri la via. E poi farrete senza restamento, a tutti loro un tal comandamento, che neun mai appena te la testa ricordi Cristo e neun cristiano. Poi comandate senza far più resta, al mastro che gli starà pressi mano, che gli spegni senza far molesta, come sempre se vive allegro e sano. E neun mai per morte me ne meno, ma sempre vive ognun chiaro e sereno. A presto. 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 A presto.